Ciao a tutti, ecco qui per un altro video, un video un po' particolare. Vi auguro buone feste, se l'avete passate in maniera tranquilla, per voi l'avete passate in famiglia ancora meglio. Spero che queste feste, che i vostri programmi si siano avvenuti, perché a me più o meno mi è andata liscia quasi tutta la settimana delle feste, dal 24 a oggi tra dicembre. Cos'è successo? Mi ero organizzata che per l'ultimo dell'anno, il 31, ho lavorato la mattina, un'ora e mezza la mattina, e alla sera mi ero organizzata pizza a casa, poi mi sarei andata in centro, qui due abito, a vedere una cover band di bascosi. Solo che con le ultime disposizioni per il covid hanno annullato gli eventi che andavano dal 29 al 31 di dicembre, quindi l'ultimo dell'anno l'ho passato fortunatamente a vedere tutta la quarta stagione di Cobra Kai. Mi è andata bene perché, vende i conti, l'avrei voluta comunque vederlo. Mi sono fatta la martura della quarta stagione di Cobra Kai, ho passato così l'ultimo dell'anno a casa in tutta tranquillità e quindi mi è andata bene lo stesso, che posso dire, ho già iniziato a lavorare già da stamattina e quindi lavorerò anche il cycle a Befana e quindi per quest'anno va bene così. Ho già girato alcuni video e ve li metto a distanza di 3-4 giorni l'uno dall'altro perché non ho avuto in questo periodo molto tempo per girarli in quanto avevo un po' da lavorare, un po' da fare i cioppini in casa e poi avevo i miei fratelli che erano in giro per casa e quindi non me ne sono sentita di girare video. Per adesso è tutto, sto aspettando che esca la nuova stagione di Stranger Things devo vedere quando è che esce al cinema Scream, ci andrà di sicuro al sabato. Ecco, dalla mia amica a fare babysitter, adesso mi chiama settimana per settimana perché c'è un po' di, tra virgolette, persone in giro per casa, un po' i nonni, un po' il marito che c'è un po' di arretrati di ferie quindi non avrà molto bisogno di mai quindi le ore che dovrei fare da là si riducono di parecchio può darsi che vada a fare un giro a Bologna però non è detto, ve lo sopro dire quando ci andrò incrociamo le dita a marzo andrò al concerto di Avril Lavigne e quindi mi farò foto lì e farò un video con tutte le foto e non metterò gli audio in quanto me lo segnaleranno come copyright quindi eviterò di, come posso dire, di mettere gli audio nel concerto andrò via, penso venerdì pomeriggio e ritornerò sabato pomeriggio mi ritroverò che quel giorno lì lavorerò alla mattina verso le 4 avrò un esame e poi dovrò, tipo, correre a casa simulare la macchina lì e andare a prendere il treno e partire per Padova e che devo ancora prendere i biglietti con questo è tutto ma vi spiegherò meglio in un prossimo video ciao